E ricoverato con prognosi riservata nell'ospedale di Catanzaro e non in condizioni non gravi come si era appresso in un primo tempo, Roberto Sarlo, il 34enne, ferito ieri sera nel quartiere Santa Maria del Capoluogo dall'ex suocero Giuseppe Stasi di 69 anni, arrestato poco dopo dalla Polizia di Stato con l'accusa di tentato omicidio, porto abusivo d'arma, porto detenzione di arma clandestina e ricettazione. E' stato lo stesso Sarlo ad indicare agli agenti intervenuti sul luogo dell'afferimento l'ex suocero come persona che gli aveva sparato poco prima. Stasi aveva nei suoi confronti motivi di risentimento legati all'interruzione della relazione sentimentale con la figlia della quale aveva avuto due figli. I poliziotti dell'ufficio prevenzione generale si sono recati successivamente nell'abitazione di Stasi che si trovava insieme alla moglie e due nipotini e che agli agenti ha negato qualsiasi responsabilità per il ferimento dell'ex genero, negando addirittura di essere a conoscenza di quanto fosse accaduto. Gli agenti hanno poi trovato in mezzo alla vegetazione circostanza e all'abitazione di Stasi un borsello contenente una pistola calibro 9 Parabellum con matricola cancellata, oltre ad un consistente numero di cartucce. Contemporaneamente in prossimità dell'automobile di Sarlo è stato repertato un borsello di cartucce calibro 9. Tutti gli accertamenti condotti con il coordinamento del magistrato di turno della procura della Repubblica, riferisce una nota stampa della questura di Catanzaro, hanno confermato l'esistenza di un rapporto conflittuale violento tra Sarlo e l'ex convivente, conflittualità che era arrivata persino in tribunale, che proprio ieri si era pronunciato in senso sfavorevole alla donna. Emerso inoltre il forte rancore covato da Stasi nei confronti dell'ex convivente della figlia.